Marco Morbiducci, capitano della Civitanoese, purtroppo ora fermo i boss per un brutto infortunio, come giudichi da questa giornata? Come giudico? All'inizio bene, siamo partiti bene tutti come squadra, poi c'è stato un periodo di flessione e poi a dicembre c'è stato un po' di incestitudini tra squadra e società, adesso abbiamo risolto queste cose, però come si sono sistemate le cose c'è stato questo brutto infortunio, quindi dispiace, dispiace perché sono al di fuori, non posso dare una mano in campo ai miei compagni, però ultimamente anche i risultati in campo stanno andando bene, quindi speriamo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Adesso per forza le cose tu sei costretto a guardare la Civitanoese al di fuori, quella è la differenza della guardarla da dentro, dentro al campo né a me, guardarla da fuori da giocatori ma anche di foto comunque di una squadra? E dentro cambiano tante cose, poi io soprattutto che la vivo in un modo particolare perché sono di qua e poi caratterialmente mi faccio prendere molto a livello agonistico dalla partita, si soffre, fuori si soffre un po' di più, si soffre in due maniere diverse, in campo riesce a soffrire un po' quella carica e quando c'è fuori meno, però la sento lo stesso la partita, che carattere mio è quello? Hai detto giustamente che sei di Gita 9, quindi la senti l'ambiente, lo conosci, domenica che va alla fermana, all'andata è stata un pareggio, partita sentita soprattutto dalla piazza diciamo, cosa ti aspetta per il finale di stagione e per domenica da parte della squadra rosso e blu? Per domenica, siccome è un derby, poi ho letto anche internet, un po' i giornali, anche i tifosi della fermana verranno a sostenere la squadra, quindi per avere un bel derby ha quel rito e noi speriamo di fare i sei punti, sette punti che servono per arrivare alla matematica salvezza per poi fare le ultime partite un po' più in relax diciamo, perché l'annata è stata abbastanza pesante per tutte le cose che ci sono state. Poi noi sappiamo e abbiamo avuto il piacere di comunicare a tutti che, ma come vi dici, l'anno prossimo sarà la Gita 9, è comunque stato riconfermato, quindi cosa puoi dire ai tuoi tifosi che ti aspettano l'anno prossimo? Cosa posso dire? Prima di tutto c'è da chiudere quest'anno, l'annata quest'anno, a me ha fatto piacere, ho detto anche al direttore al mister di questo attestato di stima e soprattutto con molto infortunio così, quindi speriamo di chiudere così, poi dopo anche a livello societario, non so, i programmi del futuro, dopo quello una volta raggiunta la salvezza penso che si metteranno al tavolino e pianificheranno tutto. Io sono felicissimo, sarei felicissimo di rimanere come hanno detto loro, dopo aspettiamo fine anno tutti i progetti. Grazie a tutti.